Ciao, sono Penelope e vi do il benvenuto su ILoveItalianShoes.tv RDS e The Micam Grande novità di The Micam 2015, la collaborazione con RDS che ha allestito nel padiglione 10 una postazione dedicata in cui Petra Loregian ha incontrato blogger e ospiti discutendo di scarpe e tendenze Io amo il tacco che slancia ovviamente la figura, anche se sono molto alta, comunque adoro i tacchi però non disegno anche le scarpe più comode, dagli ankle boots, dalle scarpe basse, dalle slip-on molto colorate, molto carine, un po' di tutto Mi piace molto sperimentare, quindi mi piacciono i tacchi però in particolare la sneakers ormai fa parte dei looks serali quindi ci esco la sera tranquillamente e sono molto più comoda, sicuro Non amo molte cose, adoro i cappelli tipo borsalino a falda larga, splendido le cuffiette anni 30, meravigliose e il tacco 12, ma senza plateau Sì, io sono come disse Lorenzo Riva per le scarpe alte e magre Petra Loregian a The Micam Abbiamo intervistato Petra Loregian, voce di RDS, che ci ha rivelato cosa ne pensa di scarpe e mondo della calzatura Le mie scarpe preferite sono quelle basse, nonostante quelle che indosso oggi ma l'ho fatto esclusivamente perché in questo contesto non potevo arrivare con le ballerine però tendenzialmente sì, a me piacciono comunque le sneaker, le scarpe basse faccio molta fatica a indossare i tacchi poi li indosso mio malgrado per lavoro però faccio fatica tendenzialmente parto dalla scarpa per poi creare l'outfit quindi se deve essere una scarpa comoda cerco almeno per quanto riguarda il resto di usare un po' di più altrimenti se parto da una scarpa importante mi posso concedere il fatto di mettermi la prima cosa che capita tra virgolette nell'armadio perché tanto la concentrazione sarà tutta lì sui miei piedi Questa settimana su I Love Italian Shoes Web TV Mercoledì la rubrica Do You Like It? Quali sono le scarpe giuste per andare a un matrimonio? Giovedì The Must Have con Orietta Pelizzari su Laces Martedì in videoteca Abbiamo intervistato Cleto Sagripanti al suo ultimo anno come presidente di Asso Calzaturifici Tante notizie dal mondo venerdì su Social Shoes Su I Love Italian Shoes.tv tante anticipazioni, curiosità, notizie e rubriche dedicate al mondo delle calzature e tanto altro ancora Se ami le scarpe sei già su I Love Italian Shoes.tv